C'è stato un colpo di scena, ieri pomeriggio, al matrimonio di Federico Bernardeschi, calciatore azzurro, artefice di uno dei rigori decisivi contro l'Inghilterra nella finale degli europei, che ha sposato la compagna Veronica Ciardi. La coppia avrebbe rivelato, solo una volta giunta all'altare, di avere una seconda figlia. Bernardeschi si rivela così, oltre ad essere un campione azzurro, anche un campione di riservatezza. La prima figlia si chiama Deva e la sua nascita è stata annunciata ufficialmente nel 2019. La seconda figlia, Lena, è invece stata tenuta finora nascosta. La notizia non è stata annunciata dai diretti interessati, bensì svelata dal TGR Toscana. Quasi nessuno sapeva che i due avessero due figlie. Proprio ieri, in concomitanza con il sì, la piccolina è stata battezzata. Federico e Veronica amano vivere al riparo dai riflettori. In passato, ogni notizia di cronaca rosa che li riguardasse è stata annunciata dai giornali e non dai diretti interessati. Dal fidanzamento alla nascita della primogenita. Stavolta però, in occasione delle nozze, era davvero impossibile nascondersi, vista la popolarità raggiunta in queste ore dal centrocampista toscano. Qualcuno di voi sapeva della loro seconda figlia? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.